Abbattimento e ricostruzione dell'ex centro anziani di via Umbria. Al posto del vecchio e fatiscente immobile, nei prossimi mesi sarà realizzata una struttura prefabbricata di ultima generazione, autosufficiente sotto il profilo energetico, che poi rimarrà a disposizione della città per ospitare associazioni culturali o centri d'aggregazione. Intanto però quattro classi di alunni hanno perso la propria sede e così il Comune, per non allontanare i ragazzi dal polo di via Umbria, ha cercato una soluzione in dolore per tutti. Erano quattro, adesso probabilmente saranno tre i nuovi spazi perché una classe è stata ricollocata all'interno di uno degli edifici già esistenti e come detto saranno temporaneamente collocate all'interno dell'edificio rosa Domus, che si trova proprio lì adiacente, quindi non ci sarà alcun cambiamento per le abitudini, anche banalmente per accompagnarli a scuola. Il Comune mette a disposizione gli spazi, poi sono le dirigenze che decidono quali classi mettere negli spazi che hanno. Nel frattempo, siccome questa è una soluzione assolutamente temporanea, inizieranno i lavori per la costruzione di un fabbricato modulare, come dicevamo anche prima, di ultima generazione, che ha tutti i comfort, che rimarrà poi anche quando smetterà di essere un ambiente per la scuola a disposizione o delle scuole o delle associazioni della città. Appena pronto, che credo che sarà davvero rapida la costruzione, essendo un prefabbricato, tutti quelli che temporaneamente sono collocati all'interno dell'edificio rosa si sposteranno lì e ci saranno ampi spazi. Di Giacomo ha anche voluto lanciare un appello alle famiglie sernine e morose rispetto alla mensa scolastica. Il servizio sarà sempre garantito a tutti i bambini. Se però la situazione debitoria non migliora, c'è il rischio che il sistema vada in sofferenza. Nasce da qui l'appello ai genitori. La mensa partirà subito e quindi non ci saranno problemi logistici, perché la mensa porta dietro problemi logistici con le famiglie e li capisco. Io però voglio fare un appello a tutti coloro che sono utenti della mensa. Cerchiamo di tenere basso il livello di debito che fisiologicamente può avvenire, però cerchiamo di prestare sempre un occhio alla situazione debitoria che è sull'area riservata che ogni utente ha e che quindi non ci obbliga poi a dover sollecitare oppure a dover mandare delle raccomandate per poter poi abbattere questo debito. Perché il debito chiaramente in alcuni casi è piccolo, in altri casi è molto grande, ma se pensate e mettete insieme tutti gli utenti della mensa il rischio è di arrivare a delle cifre molto alte che insomma non è corretto perché è eticamente giusto che un servizio a domanda individuale venga pagato. Quindi il mio appello ai genitori è di dare un occhio all'area riservata. Grazie a tutti.